Con Severino Serrani parliamo del Consiglio Provinciale che si è tenuto questa mattina e ha parlato del dimensionamento della scuola. Sì, stamattina si è riunito il CPO, la conferenza provinciale per l'organizzazione della rete scolastica e il dimensionamento è passato diciamo con un solo voto astenuto, il voto astenuto è quello del Comune di Bellante lì si è cercato di dimensionare quella scuola che purtroppo non ha i numeri, attualmente è sottodimensionato per quanto riguarda lo Zoli di Atria a scenderlo in due nuovi istituti superiori scolastici siamo riusciti a conservare la reggenza per quanto riguarda Cellino Cerminiano, un istituto comprensivo Cellino Cerminiano in quanto questi due paesi si sono spopolati a causa del sisma per quanto riguarda invece le scuole di Teramo, per quanto riguarda il Milli pur essendo sottodimensionato ma avendo la curvatura turistica con 586 iscritti che credo presto lo riperterà ad essere, noi abbiamo proposto il dimensionamento grazie a un emendamento posto proprio dall'ufficio scolastico provinciale, l'ispettrice De Nicola per quanto riguarda il Pascal Comiforti che è stato oggetto di discussioni negli ultimi giorni abbiamo ottenuto il congelamento di questa scuola per quanto riguarda la reggenza pur avendo 484 iscritti la motivazione è questa che adesso nel processo della ricostruzione perché sono già stati avviati e altri si avvieranno presto i lavori sulle scuole nel Teramano in attesa che questo processo si porti a compinente, chiaramente passerà qualche anno in questi quattro anni dialogheremo con il territorio ci sarà un dialogo con il comune di Teramo, con la scuola, con i comitati di quartieri con tutti i soggetti preposti alla riorganizzazione della rete scolastica certo è il nostro intento creare un unico polo professionale e tecnico lungo via San Marino questo dopo aver spostato il liceo scientifico, l'Einstein, presso i locali del comico così otteniamo due risultati, riportiamo una scuola importante nel centro di Teramo che è lo scientifico e in un'unica zona concentriamo gli istituti professionali e tecnici per quanto riguarda il Delfico invece qui ripartirà dal prossimo anno la scuola media perché al centro di Teramo una scuola media è importante, ha una valenza storica per quanto riguarda invece il di poppa ci sarà un nuovo indirizzo, un indirizzo di scuola serare un altro aspetto molto importante, siamo riusciti a conservare la regenza all'istituto d'arte di Castelli una scuola importantissima che rappresenta la storia del nostro territorio con 112 anni di storia e soprattutto perché adesso il sindaco di Castelli ha chiesto il riconoscimento della scuola rara e credo che abbia tutte le caratteristiche per avere questo prestigioso riconoscimento